Al quinto posto, Abbiamo la Thule E9070 Catene da Neve. Se non desideri spendere molto perché è difficile montare le catene da neve, ma c'è la responsabilità di averle a bordo, le catene da neve Thule possono soddisfare al meglio questa esigenza. Sono prodotti da un marchio molto noto nell'aftermarket automobilistico e, con una buona qualità, hanno anche un costo tipico con i rivali. Sono classiche catene da neve che si montano come tante altre in commercio e richiedono una buona manualità per terminare l'operazione in un tempo ragionevole. Al numero 4, abbiamo Melchioni K990 Catene 9mm. Chi possiede un'automobile che monta pneumatici con misura 205-44 R16 può considerare il design proposto da Melchioni, per l'esattezza la versione K990. Queste catene da neve approvate soddisfano i requisiti per varie dimensioni di pneumatici oltre a quella spiegata sopra. Ad esempio anche pneumatici con dimensioni 185-60 R17, 205-50 R17, 215-45 R17, 235-40 R17 e 215-40 R18. Per chi volesse dove acquistare queste catene è l'elenco. Al terzo posto, abbiamo la Spikes Spider Compact Catene. Le catene a ragno Spikes Spider Compact sono uno dei modelli più convenienti da montare e adatte a pneumatici con una larghezza che non supera i 205 mm e che il peso massimo a pieno carico non supera i due carichi e mezzo. Sono contrassegnati con approvazione 5117 e per questo possono essere facilmente utilizzati in Italia senza incorrere in alcuna penalità. Per quanto riguarda il confronto con altri modelli di catene, questo nuovo design è definito da un tasso sopratipico, principalmente dovuto al sistema di aggancio rapido delle catene. Al numero 2, abbiamo il Subtempo Catene da Neve. Tra le migliori catene da neve dell'anno scopriamo il design Subtempo che si distingue per la sua grande flessibilità. Puoi usarlo con diversi tipi di automobili e si adattano anche a suve piccole auto commerciali. Realizzate con fibbia in lega di zinco. Queste catene sono molto robuste e resistenti, inoltre garantiscono una trazione ideale su neve e ghiaccio per una maggiore sicurezza durante la guida in montagna. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il Koenig 2 miliardi 4 milioni 505 mila 745 catene da neve. La particolarità di queste catene da neve Koenig la preoccupa, per dire il meno innovativo, sistema di riparazione del pneumatico. La messa appunto prevede che questo venga riparato utilizzando uno dei dadi iniziali su ogni cerchio, ovviamente senza usare quello antifurto. Questo permette alla catena di non toccare e quindi di rovinare i preziosi cerchi in lega che si trovano sui lotti di veicoli. Una volta fissata al dado. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri.